Kitana si ritrovò a percorrere le strade di una magnifica, luccicante città. Questa era Edemia, un reame libero dal regno esterno, e Kitana ne fu la bellissima regina. Era la linea temporale non alterata da Raiden. Shao Kahn aveva distrutto il regno della Terra, ma Kitana era sopravvissuta e aveva unificato gli altri regni per sconfiggerlo. Il risultato era stato una pace duratura. Kitana si svegliò dalla visione e si ritrovò nel regno occulto. Non era la regina di Edemia, ma una revenant dell'inferno, e per questo odiò Raiden.